Io credo fermamente nei valori della democrazia, nei valori della libertà, nei valori della resistenza a cui ho partecipato attivamente e quindi mi sento confortato da quanto ho sentito oggi con tanta sensibilità, ma altro che questa atmosfera duri nella memoria storica di tutti i presenti perché questo episodio di stasera palesa una comunanza di idee che riconfortano il futuro anche in tempi così difficili come quelli che ora viviamo. Dunque fedelta alla resistenza, fedelta alla repubblica fedelta alla libertà.